È gara di solidarietà per l'Ucraina. Il Comune dell'Aquila mette a disposizione gli appartamenti del progetto case dei MAP per accogliere la popolazione in fuga dalla guerra. Al momento non si accontezza dei numeri ma anche i comuni del circondario si sono messi a disposizione portando avanti anche moltissime raccolte di iniziative, anche una che sarà fatta domenica in Piazza Duomo. Intanto una prima famiglia ucraina è già arrivata a Poggio Picenze e sarà sistemata in un MAP messo a disposizione dal Comune. Anche a Fagnano Alto nei giorni scorsi sono arrivate le prime famiglie di profughi. Il sindaco Pierluigi Biondi spiega che la situazione è monitorata in modo costante dalla Prefettura che raccoglie tutte le necessità. Il Comune insomma farà la sua parte così come già aveva fatto con la popolazione afghana di recente perché ha questo patrimonio importante di case da offrire perché non dimentica la solidarietà ricevuta in occasione del terremoto del 2009. Dunque siamo in stretto contatto con la Prefettura che coordinerà tutte le attività di accoglienza dei profughi. Abbiamo dato la disponibilità almeno di 10 alloggi ma comunque a seconda delle necessità vorremmo ampliare questa questa nostra disponibilità. Nel frattempo stiamo collaborando con le associazioni di volontariato, con i cittadini ucraini già presenti nella città dell'Aquila attraverso tutte le forme di assistenza che sono possibili dalla raccolta fondi alla gestione degli arrivi, delle necessità e ricongiungimenti familiari. Domenica ci sarà una bella iniziativa all'Aquila in collaborazione appunto con le associazioni ucraine e con l'Associazione Nazionale Alpini. L'Aquila in prima linea in questa campagna di solidarietà che non è altro un restituire la generosità di cui siamo stati oggetto anni fa. Del resto già con la popolazione afghana lo avevate fatto, avevate accolto diverse famiglie. L'Aquila è una città che da questo punto di vista è fortunata perché ha molti spazi da poter utilizzare e sarebbe un peccato non utilizzare questa ricchezza di immobili per dare delle garanzie e delle certezze a chi fugge dalle guerre.